Con indicizzazione si intende il processo tramite il quale i motori di ricerca, come per esempio Google, trovano il tuo sito, lo leggono e lo inseriscono all'interno dei loro risultati di ricerca. In poche parole, un sito è indicizzato se è presente nel database del motore di ricerca. Quando il tuo sito viene cercato sui motori di ricerca e compare nei risultati, vedrai che è composto da tre parti, il titolo o nome del sito, l'url del sito, ossia il dominio che hai scelto e la descrizione del sito. Questi tre parametri sono molto importanti per i motori di ricerca perché le aiutano a capire di cosa parla il tuo sito e permettono agli utenti di trovarlo nei risultati di ricerca. In questo video ti mostrerò come impostarli su Swyte. Una volta logato a Swyte, accedi alla gestione del sito. Clicca su Marketing dal menu in alto. Seleziona la scheda Motore di ricerca. Da qui ti è possibile inserire un nome da associare al sito che sarà utilizzato dai motori di ricerca, una descrizione per il sito che i motori di ricerca mostreranno come descrizione all'interno dei risultati delle ricerche, le parole chiave con cui il sito può essere ricercato. Spostando il selettore indicato, puoi impostare la visibilità o meno del sito web all'interno dei risultati di ricerca. Infine, puoi incollare il codice HTML precedentemente recuperato da Google Search Console all'interno del campo indicato. Non è necessario salvare, in quanto il sistema esegue il salvataggio automatico delle informazioni inserite. L'indicizzazione sui motori di ricerca è disponibile solo nel caso in cui il servizio Swyte sia legato ad un dominio personalizzato. Grazie per la visione!